La capanna dovrebbe lasciare lo spazio per consentire agli altri, ai presenti, di poter prendere parte... Sto dicendo 500.000 volte, vogliamo fare spazio? Finalmente ho trovato lo speaker, bravo, bravo lo speaker, si chiede che sto qui. Stringiamoci, dai, stringiamoci. Vorrei fare questa presenza io se è possibile. Allora, ciao, intanto ci diamo il dolore. Allora, prova, sì, prova. Allora facciamo uno spazio adatto che stanno per arrivare i pastori. I pastori. Guardi, ma potete passare, passate a noi. Allora, aiutami di l'arco. Forse il Re Maggi. Hai visto? Qua c'è la mucca. Dio, guarda come si sono copinati. Eh, va bene, non fa niente, è giusto. Nassi, vuoi stare con me? Vuoi stare con Stefania? Un minuto. Lei ci inginocchia un attimo, perfetto. No, non ci posso fare. Non ci posso fare. Eh, dai, sei lo stesso. Ti couldi fare. Ti pueden fare. E' da. Un applauso a te, per volta a San Giovanni, dai! Dai! Ecco... Con il suono del camporello, i nostri suoni, i nostri suoni, i nostri suoni, i nostri suoni, aspettano, e anche i nostri suoni, ha fatto una bellezza... Dopo l'estero, ritorneranno sugli passi, manteniamo almeno questo spazio, la fila è almeno questo spazio. Certo, certo, questo è il sopportenso, ma lo preparerò molto. Subito dopo, ma proprio subito dopo che i pistoli saranno andati dietro, ma via. Al solito insieme, dalla sinistra e dalla destra, ci vuole compostezza tanto. E là, gli ultimi stanno accedendo a portare il loro saluto, la loro adorazione al babbiches. Il Comunicato, il Comunicato, il Comunicato, il Comunicato, la Cisì, nel periodo della Contra Riforma, si poteva assistere a una fioritura di presenti. Tutti un'opera, in Italia, erano famose, come fu i presenti del Serno, di Napoli, di Genova e i presenti del Sardegno. Il bicchiere lo tengo con una mano. Ringraziamo questa ripresa, la professora Catalana. E io mi faccio immortalare. E io vengo il limaco, come mi dico, la stessa cosa. Cos'è quando è il limaco? Il limaco. E io mi Gesù. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti